Allora ragazzi, rieccoci di nuovo qui con un nuovo video sul canale, era da più di tre giorni che non caricavo più video ma non vi preoccupate, non c'è nessun motivo in particolare, semplicemente non avevo voglia e argomenti da trattare ve la dico proprio lì direttamente e torno con questo video che in realtà non vorrei fare perché comunque non vorrei parlare di un gesto del genere e vorrei iniziare parlando un pochino di un mio video precedente il video che feci quando ci furono quelle scritte offensive nei confronti di Kolarov disse in quel video che era il minimo che si poteva aspettare dopo un 7 a 1 perché dissi quella cosa? non perché mi faceva piacere vedere tifosi che scrivevano certe cose nei suoi confronti ma perché sapevo che dopo un 7 a 1 in quel modo era una reazione plausibile ed era una reazione considerando la pazzia di molti tifosi e non venite a dire è solo della Roma, molti tifosi, punto era un qualcosa che non era nulla rispetto a quello che in realtà alcuni pazzi avrebbero potuto fare quello che esattamente hanno fatto i tifosi, non so dell'Inter, però probabilmente sì alla macchina di Vanda Nara infatti tutti quanti ne stanno parlando hanno tirato un sasso verso la macchina di Vanda Nara con in dentro anche i figli quindi non volevano solo colpire lei ma comunque potevano far male anche agli stessi figli per fortuna non c'è nessun ferito per fortuna non è successo nulla di grave almeno a livello fisico ma il gesto in sé ha colpito il gesto in sé ha colpito perché giustamente non se lo aspettavano in molti tutti si aspettavano le offese che gli sono arrivate sui vari social nessuno si sarebbe aspettato un attacco dal punto di vista fisico diretto proprio alla stessa Vanda Nara ed è proprio per questo motivo che io ho considerato le scritte scusate alzo un pochino ora si vede un pochino meglio ed è per questo motivo che io ho considerato le scritte contro Kolarov normali perché rispetto ad altri gesti che avrebbero potuto fare considerando la rabbia e tutto quanto gli è andata anche bene perché delle scritte tu le togli e le sistemi un sasso verso la macchina a parte che ti rovina la macchina ok che il loro problema non è certo dei soldi però è un qualcosa già dal punto di vista etico ridicolo perché non parliamo di una persona che ha picchiato qualcuno di un assassino di un qualcosa di talmente negativo che si merita una lapidazione parliamo di una persona che seppur con atteggiamenti sbagliati ma non sta facendo di male a nessuno nel senso che non è che sta portando male fisico ad altre persone o è così cattiva da meritarsi certe cose io certi atteggiamenti veramente non li capisco io non faccio questo video per dire eh lo vedete che anche gli interisti fanno certe cose non è assolutamente questo il senso del mio discorso non voglio generalizzare non voglio dire che adesso tutti gli interisti sono persone che tirerebbero sassi a una macchina perché l'ultima cosa che voglio fare anzi è proprio questo il punto io questo video lo voglio fare prima di tutto per far capire alla gente che non è una questione di interismo o altro è questione semplicemente di pazzia umana non bisogna generalizzare quando un romanista fa certe cose non bisogna farlo quando lo fa uno juventino quando lo fa un milanista un interista eccetera eccetera quindi specifichiamo questa cosa anche se probabilmente sono stati degli interisti a fare quel gesto l'ultima cosa che si può fare è considerare tutta la tifoseria in quel modo chiariamo questo discorso io non capisco perché bisogna metterla per forza sul piano fisico su certe cose io posso capire la rabbia posso capire la delusione posso capire tutto quanto ma queste persone dentro di sé hanno veramente provato cos'è la sofferenza o cos'è un qualcosa che ti può portare a fare questo gesto perché ragazzi veramente io posso capire la delusione dopo una partita la delusione per un gol sbagliato questo o quell'altro ma cercare di voler far male a una persona semplicemente perché sta influendo nella situazione negativa del marito con la sua squadra è qualcosa di imbarazzante qualcosa di veramente imbarazzante più che altro cioè è andata bene ma mettica sul sasso la prendeva magari entrava dal finestrino finiva dentro e andavano a fare un incidente ci morivano i figli che colpe avevano i figli di tutta questa situazione? che colpe avevano? nessuna solo quella di essere appunto i figli di Vandanara ma in generale anche lei ha delle colpe così evidenti da meritare un gesto del genere? assolutamente no io veramente sono schifato sono schifato e veramente non capisco che cosa volevano ottenere con questo gesto cioè adesso che loro hanno fatto questo gesto lei si è impaurita e anche se adesso lei ha paura per dire se il loro obiettivo era metterle semplicemente paura che cosa ottieni? cioè che cosa vuoi ottenere? cioè io penso che Vandanara pur non nel migliore dei modi ma fai semplicemente gli interessi del marito quindi andarla ad attaccare in questo modo rischiando addirittura di far male ai figli è un qualcosa di riprovevole adesso io spero che le persone che hanno fatto questo gesto vengano prese processate sistemate a dovere per far capire alla gente che l'ultima maniera anzi neanche l'ultima proprio non deve esistere come maniera per risolvere le cose è metterla sul piano fisico veramente perché è un modo vigliacco cioè tutto è un modo vigliacco perché non è che tu lo picchi e già in quel caso sarebbe sbagliato però ti risassi da lontano come se tu effettivamente sapessi di non dover fare quel gesto ma lo fai comunque io ho veramente poc'altro da dire io veramente mi dispiace molto per quello che è successo spero che ovviamente non venga seguito da altri gesti simili perché sennò saremmo veramente alla frutta e in generale sono episodi che non c'entrano nulla col calcio ma c'entrano solamente con l'imbecillità dell'essere umano che purtroppo anche solo per colpa di quello che dovrebbe essere uno sport ti porta a fare gesti del genere detto questo ragazzi allora fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate ci vediamo presto per un altro video sperando che mi torni l'ispirazione visto che in questa settimana veramente non ho avuto voglia e pensiero di fare nessun video se non fosse stato per la Champions non avrei fatto video per una settimana ve lo dico tranquillamente ma spero che ovviamente mi torni presto un saluto e sempre comunque forza Roma ciao ragazzi